Buonasera signor tassista, la prego di non fare caso al fare strano dei suoi clienti. Non si allarmi, questo è un servizio di monitoraggio per scacciafiga. Puoi lasciare un feedback sul www.scacciafiga.com Questo qua è il messaggio iniziale, però non è uscito da... Grazie a... ...essaggio da mamma, Andrea ti ho detto di stare a casa visto che ieri il tampone è risultato positivo, mi raccomando signor... Non è vero... ...e uno scherzo... ...titolo, fake taxi, tuoi fratelli si rincontrano dopo molto tempo, scena 3. Grazie Racotti, grazie per il train... Ah, è vero... Ah, ok, non è vero... ...e uno scherzo, già ci hanno fatto... Ragazzi, tutte le donazioni che sono procurato, un falso allarme, ve le scammo. Buonasera signor tassista, visto che siamo nel periodo, le propongo questo gelato. Un buon lavoro. Quando la gula chiama e voglia di qualcosa di speciale... Cazzo d'or, il gelato cipraffino, al gusto di... Mmm... Cazzo. Cazzo d'or, crema di cazzo in tanta morbida panna. Oggi Cazzo d'or ti invita al favoloso concorso. Compra e vinci un favoloso cazzo d'oro, che puoi impegnare a molte di pietà o puoi... ...caccartelo nel cazzo. Cazzo d'or, è un prodotto? Sì, tu esaurito. Sono quelle che si scambiano su Instagram. Testiamo anche come in spalla. Pronti? Vai, sono pronti. Un pit stop in studio, va. Anche questo per la prima volta, i grandi meccanici della Ferrari. Un pit stop dello studio di porta a porta. Pronti? Questa era un meme che... Companetti, massimo, perché si metteva sempre Ferrari. Era tutto rotto. Quattro secondi. Quattro secondi, otto. Ragazzi, sbaglio l'ho fatto prima qua che non nei circuiti. Insomma, che quattro secondi sono pochi, eh. Questa è una Vespa. Ciao, ciao Andri, io sono Gia con la TR-ANZ. LH, hai lasciata la pistola a casa? Non mi fido oggi, è pieno di pula. Grazie mille, scusaci per queste cose. Oh, oh. E adesso ti dico in città. Oh, oh. Grazie, grazie. Ciao. Ciao. Grazie, Luis, no sal. Anche l'autista inizia a dire oh, oh. E' stato contagiato? In senso non del corona. Ma, scusami, il mojito all'alcol. Sì. Perché mia mamma me lo faceva sempre senza. Adesso mi trovo un po' in difficoltà. Veramente. No. Veramente no. Ragazze, conoscete Enchagram? Non sapete cosa vi perdete. Non lo conoscono. Vabbè. Ancora. Però è un bel profumo, quelle ragazze. Ma cosa sei un predatore? Senti che profumo. Mi piacciono i profumi delle ragazze. Chissà dove tengono il loro intimo. Tu sei un predatore. Abbiamo chiesto di non dirlo. Vai, provaci te, vediamo. Ragazze. Conoscete Enchagram? No. Va bene, buona serata. Oh, mi voglio fare anche io il perché consigli un androide non è poi. Grazie, oh, mi dè l'aiuto. Non ti ho consigliato niente, caro. Scommento che con Luis avrebbero risposto diversamente. Sì, 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 avevo... No, ma sono pronta a conoscerlo. Fammi vedere i tuoi bicipiti unti. Vabbè, qua stai oggettificando. No, e a me cosa possono dire? Fammi vedere i tuoi addominali marci, lardi. Beh, lui ha speso comunque tanti anni la sua vita a curare il fisico perché devi... Ma io ho speso tanto tempo a curare il mio profilo Instagram con le musichine. Che a te non interessano? No. Un po' di cringe o di figa. Sì, sì, arriva, arriva. La cringe ce n'è a tonnellate. La figa, devo ammettere che è un po' sulla carente al momento, però... Vabbè. Qual è il cringe? Ma tu sei cringe da... Ecco qua. Dai che poi si guardano e ci dicono... Vai, 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 vai. Lo sai che siamo la... Un milione di fan. Siamo la nuova classe dirigente noi. Vai, balla. Ciao YouTube, un milione di subscribers. Sì. Fa le intelligenze artificiali. Vai, balla, scusa. Balla per strada. Purtroppo non ci ha cagato. Io ho detto un milione di fans, però... Ah, ah. Ma non ho pensato. Balla, balla per strada che ti tiro le monetine. Ma che cazzo vuoi? Appena c'è un altro giullare, tu subito a burrattina. Una volta che non sono io il giullare. Balla, questa è la nostra storia. Va bene? Posso sentirlo? No, girami la cassa. Bravo, bravo, girami. Ok. Quindi è vero. Quindi è vero. No, 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 no. Ciao ragazze, stiamo facendo i soldi. Amore! Eh, non le ho tirate con la mia danza. Come mai? Ma tu ci hai fatto... Ti hai fatto vedere le favela, la casa tua, no? Anche lui è uno streamer. Sei streaming Twitch? Sì. Siamo colleghi, colleghi. Con la roida. Vuoi una? Sì, sì. Eh, sorry. Madame, do you want to take a picture with us? Torniamo alle vecchie abitanti. One for fun! Are you a YouTube? Yes, yes. One for fun! First in Italy. What? What's your name? Homi. Homi? Do you know him? No. He's a famous. I'm not famous. The first one. It's the first one in Italy. Yes, yes. It's the first one in Italy. Ma bene, è tutta. Cioè, io sono convinta da noi. Ah, voi non siete convinte? Facciamo a fare. Vai cercatevi. Search it. Ma è su italiano. Il nome è Homi. H-O-M-I-Y. E l'obiettivo qual è? Allora, qual è l'obiettivo della vita? Homi. Wow. Ma questo è una domanda molto profonda. Quindi è molto difficile. Rispondo sempre a questa domanda con questa. L'obiettivo della vita. Non c'è, non c'è. Come si è andata. No, non, non. Sembra E? E solo Y. Sì. 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 Lo sapete tutto in italiano. Ah, Yamamrat, Lesbischi B6, Yamamrat, Polish, Yamamrat, Lesbischi B6, no, 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 he used to do pranks, Yamamrat, Lesbischi B6, now we have very serious streamers on Twitch, very serious, una foto, tutti insieme amico, stiamo, stiamo uscendo, stiamo documentando, Italia, ma sono stato, I've been in Slovakia, so I know a little bit of Polish. Home and Giro per Genova. Yeah, you see, he does the stuff. Yamamrat, Yamamrat, Lesbischi B6. He just knows that. It's Russian. Russian and Poland are two different countries, right? I'm not stupid. I'm not stupid. non vuole una foto si I'm sitting with 10.000 persone 10.000 people 10.000 I'm the first one please do not panic emergency evacuation don't worry I'm the master dear warn people before you film them shouldn't you no because it's a public stuff if you don't want to go away and I don't film you know no problem in Italy in Italy in Italy or in Milano non è vero quello che dice ragazza scappate in realtà è uno stupratore talk predo giurinita porn actor yeah I used to do porn but it didn't work out let's go let's go photo let's go photo 5 euro one photo ma tu ce l'hai soldi in casa ok ok dopo 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 mi paghi ecco dov'è il mio oh non lo so questo è finito andiamo let's go una foto una foto una foto una foto una foto do you want no 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 yes it's cringe don't be rude let's go così così first one ciao ragazzi have a wonderful night bye bye buona serata ragazze quando cos'è quindi quanti soldi sono un attimo un attimo dove cambio il rullino dove cambio il rullino ma quante volte ci vuole fare più che altro se ne è andato il main obiettivo tra poco beh adesso le tremo anche erano anche un po' antipatiche quella lì bionda era un po' Karen posso dire Karen tutti si scordano non Karen Kokeshi Karen è un meme americano un po' un po' donna british bianca che rompe i coglioni perché calpesti il prato degli aiuole però lei non sa che il prato è tu perché io ho già pagato 6 euro due foto quindi qualcosa guadagnato 2,6 dai 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 no facciamo 8 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 dai vicino 8 foto ma che dobbiamo fare no no 2 foto 8 1,2 e 3 eccoci perfetto 8 euro pesce potabile però fanno un altro perché tre amici tre amici tre foto no no ma siamo soddisfatti perché non siamo neanche bellissimi come sarà scegliete voi pancia 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 presto no metti in tasca meglio no metti in tasca no metti in tasca io penso che fanno un altro ho capito una per lui una per te ma tu sei tu sei businessman lo sai che ho perché ho lavorato di dove sei tu? Bangladesh ecco qua guarda qua guarda qua guarda qua guarda dove ho lavorato si 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 bangla tv io ho lavorato bangla tv artista grazie artista e tu conosci tu sei mai stato a venezia? no io sempre ha scappato grazie bro grazie no no allarmi ragazzi sono scammati scusatemi ciao com'è che ti chiami? come è che ti chiami? ilias ilias vuoi dire qualcosa in bangla per qualcuno che ci sta seguendo? grazie Sara tu mi chiami ma quanto cazzo sei bello? cosa vuol dire? la mia sessualità vacilla oh tu come stai? no puoi dire in bangla ciao a tutti ragazzi ciao a tutti salamu alaikum salamu alaikum salam ma non è bangla no salamu alaikum vuol dire arabo si tu sei musulmano vuol dire no salamu alaikum che dio ti benedica no questo è anche bangla bangla arabo tutti tutti i bangla vuoi bailare tutti i musulmani o anche i cristiani? no no per i musulmani salamu alaikum ciao buona serata ciao ciao sono l'uomo vuoi mettere un attimo sotto? eh sì sì grazie ah da qua la faccio? vai io sono l'uomo no sotto 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 eh sennò non sei vai 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 bene no 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 devo cantarla mettiti lì sotto bene io sono l'uomo del cespuglio del cespuglio ma sembra una prefucilazione via sembra che ti dobbiamo fucilare via dal cespuglio io ne ho provato sono l'uomo del cespuglio del cespuglio posso posso io sono l'uomo del cespuglio del cespuglio del cespuglio del cespuglio pagati per il 93 vuoi mettere Disney? cespuglio non cespuglio compreso? no 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 scammato è un po' scammato scusami volevo provarlo hai comprato no è scammato allora vorrei cantarvi una canzone ma non c'è figa però scusatemi non ci sono donne senza di figa ci affligge oh figa vieni a me vorrei della figa per te ti auguro di fare l'amor sei un po' vicino grazie Davide mi non sei piaciuta io hai detto sì cringio è tutto cringio il cringiometro si è alzato non posso non denotarlo una foto quanto? una rosa? una rosa? quanto? non pulisco ma non può se vuoi c'è un cestino di cianco non sta andando non pulisco ma ti sbocco una 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 grazie mille dai facciamo 3 euro dammi 2 euro beh facciamo 5 euro vuoi 2 euro? no perché tu vuole ricomprarmi il figlio dai ancora 1 euro no no questo è per la donna non per lui dai vabbè tu è bravo ciao 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 buona serata cosa è? non è per te è per una donna una rosa sul mare ah non mi stai riprendendo? si si ma c'è ti voglio mettere grandangolare che è così ok posso? posso sfumiarla? non è per te e sono 3 anni no? grazie mille e sono 2 allora vi do un piccolo suggerimento per chiamare dovete prendere una bella canzone italiana vecchia prendete una rosa e cambiate e cambiate la parola fondamentale che in questo caso è rotonda cambiate la parola fondamentale con rosa quindi in questo caso attenzione no figurati quindi questa cosa farebbe una rosa sul mare il nostro disco che suona vedo gli amici ballare fa la mano ma tu non sei qui con me poi c'è il pezzo bello vuoi il pezzo bello? spesso io gli guarda come un pazzo amore mio dimmi che sei triste così come me dimmi che chi ci separo è sempre lì accanto a te se tu sei felice con lui rimpiangi qualcosa di me io ti penso sempre sai ti penso qua ci sono tutti i violini avete presente i violini? scusatemi ubriaco una rotonda eccetera eccetera adesso non ve la faccio tutto perché poi c'è il copyright grazie mille scusaci se sentirai delle siamo i tre youtuber più famosi d'italia e stiamo facendo un video ah eccoci si quindi tu tu hai un milione e duecentocinquanta mila giusto? si ovvio tu Ricky? io ho cento follower centomila e non invece no ma sai cosa è successo? che praticamente quelli di youtube mi hanno scritto ok qua tra l'altro sono gli uffici qua eh infatti mi hanno scritto mi hanno detto guardi boom 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 mi hanno detto guardi signor Enkram lei offre dei contenuti veramente sublimi mi ha detto era la signora youtube ho appena scoperto di avere la stessa età di Enk allora che è spazio anche per un po' di audience cosiddetta boomer Enk ti prego diventiamo amici solidarizziamo aiutami a non sentirmi così solo eterosessualmente vi aspetto a Verona ciao caro ciao sono già stati eh no comunque gli ho detto guarda io non accetto nessuna offerta perché non mi faccio comprare loro mi hanno detto che avrei dovuto sponsorizzare NordVPN in ogni video orrei ciao io lo sponsorizzo di mio nei miei io c'ho 570.000 ma ecco si tu berevasore ma ti rendi conto che stai scarruzzando in giro un giullare pregiudicato e truffatore oh oh 737377 3 in cabasso le ali spalletti appena scoprirà del tuo tentativo di rimpiazzarlo ti tira una coltellata nei reni auguri no vi servono i reni quantomeno RMKK top depressione maniacale con disturbo bipolare perfetto senti ma vai senti se mi devi accoltellare nei reni almeno che sia una sola non è Simone ho detto senti ah Simo vuole accoltellarmi no come su GTA come su GTA grazie a coltellata no dai dietro il benzinaio io sono eh ah ti porterà dietro il benzinaio oh Henry vieni di qua vieni di qua dai l'ho anche aiutato a settare il bod delle pubblicità perché mi vuole morto l'ho fatto eh ma non c'è abbastanza spazio per tutti ma io non streammo Simo anche oggi chiederei al tassista di farti fare una colonoscopia goliardica e per favore non vomitare sui sedili del taxi come l'altra sera dopo i 30 dopo i 30 la colonoscopia è doverò grazie Ricky puoi alzare signor grazie grazie è ralentata ecco mi spiace la usavo nel mio dj7 molto prima che questa canzone uscisse questo era nel mio dj7 ma chi è che? è me due o? ma lei che stai guardando una live? omi sono il ragazzo che guida la macchina dietro di voi ho appena visto jordan jeffrey con una mitraglietta che urlava omi o no vi ha trovato ratatata no nxk ratatata no ragzo di cui non so il nome ratatatask ssksksksk9 punto interrogativo dov'è? per secondo no no non te lo ricordi vai andate mai andate si è schifero ti è schifero ti è schifero mi è schifero mi è schifero ti è schifero ci sono schifero ti è schifero mi è schifero hai rotto il cazzo vuoi del contentfico? ti porto io c'è Simone è l'unico che c'ha c'è 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 dai andiamo da Giulia come l'ultimo, come il primo dai Giulietta ecco un'altra live non posso sto facendo cose legate no è un drummino ciao caro super drum presentati presenti a Giulietta ciao raga sono sempre Giulia ci sono anche c'è anche mi sto facendo addosso la chiave dell'amore andiamo a pisciare insieme? ci teniamo no non possiamo ma andiamo a pisciare insieme ok devo andare a pisciare insieme Simone sono io Andrea Simon Mimmo Mimmo, Lorenzo si può si può si può ma no 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 sto levando il c***o dal pantalone attento parliamo un attimo ma da quant'è che non ci vediamo fra? è un po' eh è buono stare comunque in un angoletto a parlare insieme grazie mille grazie mille grazie mille ma bello per quattro mesi bentornato che hai fatto oggi di bello? beh comunque star qua io ho scoperto la mia la mia ma ci stanno alzando l'acqua terribile ma fiove? si sento dell'acqua ma tu hai hai errorato il manopattino si voglio comprarmene uno e questo infatti ti ho spostato in questo angoletto per parlarne io voglio comprarmene uno ma costano 400 euro c'è il bonus 600 euro 60% indietro grazie King dalle droghe quella puzza strano eh ma è vero che già ci pisciano puzza strano in questo angoletto ciao ciao il grecone è Pinerolo Torino guarda qua Volpiano Pinerolo piccola con la è l'ingorno guarda qua il grecone il grec è ma ti rendi conto? ma ti rendi conto? il grec è parla con l'unica persona della provincia di Torino eh ma quando la terra questo è questo è è un blood game no io che flexavo il mio fisico nel bagno a casa che va fatto? cosa tu? ebbè un corretto del mio ah simu hai un po' di pezzo di pizza nei denti pronto? prossimo? dov'è? sinistra sì zoom perfetto ok tutto posto vai Simone fa il discorso fa il discorso il mio il mio dobbiamo farlo fa il discorso ok lo faccio per te è il momento del discorso ma scusami il discorso è stato è stato fatto due volte nella storia di Twitch una sarà una sarà sicuro 100% 100% e va fatto col cuore però devo sentire lo sento e lo dico a tutti i modificati e lo dico a tutti i modificati eh andate via lasciatemi stare da solo non me lo ricordo però fammelo fare vieni qua no no fammelo fare da solo fanno fare così ci muovi ascolta no fanno fare così ci muovi pensare una cosa fanno fare di muovi no però io già so cosa dirvi io già so cosa dirvi sono ragazzi per chi c'è e per chi c'è stato ecco è un anno e mezzo è un anno e mezzo quasi è pochissimo no è pochissimo un cazzo sono praticamente due anni no ma sembrano tipo 5 sembrano 5 perché il mondo c'è cambiato guarda che è arrivato a rovinare tutto scusami voglio lasciarmi da solo farlo un attimo a concentrare mi stanno molestando aiuto mi stai schiacciando sei troppo ok lasciami sempre è praticamente due anni io ho iniziato con Andrea ah il primo iniziale insieme è stato incredibile e il mondo quanto c'è cambiato da da quel giorno lì dal Bologna ma che è rimasto lo stesso perché noi abbiamo fatto mille viaggi insieme i compagni di queste merda che ci tenavano faccetta nera pezzi di merda ma me le ricordo tutte quante le volte che stavo a Bologna la città dei comunisti non puoi vai via città dei comunisti e ci avete fatto piangere abbiamo fatto 48 ore di fila per settimane di live dormiti in stazione si vabbè poi siamo fatti caccia da hotel denunciati da hotel lo diciamo super pesanti soprattutto col content del cazzo è l'amore si sa di fatto che ogni resab del cazzo che fate è un tassello di fiducia che arriva al canale e non è tipo il ah Drembo ok ma arrivano i soldi è più il ah si va bestemmiato perché il canale è bestemmia quindi fammi fare il discorso ogni resab del cazzo è fiducia è fiducia della persona non è il ok adesso faccio l'esame perché legge il mio commento di merda no è la fiducia del content è la fiducia della persona che si spinge non nel content di ora nel content di domani beh c***o è che non ci sei mai stato non sei nessuno non sei nessuno ha fatto male una persona lo viste il rumore era il caccio stiamo scherzando non c'eri non c'eri a Bologna non c'eri a Bologna non c'eri al G8 non c'è il cazzotto al G8 sa di fatto che grazie a Twitch e grazie a questi versi di merda vergognosi non posso franzo sono davanti a voi il discorso va fatto il discorso è veramente brutto ti giuro la dire al cazzo il discorso è che in due anni di merda abbiamo fatto un botto di esperienze uniche io ho viaggiato per la prima volta in tutta Italia e uomini di merda ma perché perché il discorso è amiglioso perché è mio il discorso stupido testo di perciò io do un ringrazio a tutti anche da parte di uomini merdoso non posso fare il discorso ma sono davanti guarda la gente che mi giudica dai non c'è stato il piano va bene così no no io non c'è stato il mio seduto hai notte il caso sa di fatto che dovete captare le mie emozioni hai scoraggiato ho conosciuto amici ho viaggiato ho conosciuto donne davanti a tutti voi ho fatto dei soldi anch'io come omi ho fatto dei soldi tu hai un tuo meme dei tappa hai un tuo meme dei tappa quanti k fai? io faccio 5k 15k hai detto 15k? 15k panetti? 15k panetti? Simone offre la bere a tutti 15k panetti quali sono i miei mediomi? 70k eh avanti cazzo oltre quant'è che c'è il k più alto? ti ha cagato in testa perché 15k è minore no no adesso per i discorsi offri certo ci hanno visto dove? a Bologna? ci hanno visto ubriachi a Rino comunque c'era la verità c'hanno visto ubriachi a di Esolo c'hanno visto ubriaco a non era un discorso questo sei zitto c'hanno visto ubriachi in Slovenia in Croazia sono un insulto a Torino a Napoli c'hanno visto ubriachi ovunque ma sì che si è basta farci bene ma sembra era un drink no io sono contro gli alcoolici mi prendo una cochina in che senso? una coca con tutto il bene del mondo che voglio ad Enk no veramente io Enk è persona incredibile incredibile però con tutto Enk mi voglio benissimo tanto bene tanto bene però ho un grande amico del cuore che si stava facendo scammare dal dal mio pubblico per cui non stremiamo più per colpa lo dico perché se no gli rubo un po' il pubblico ci stiamo dividendo perché così io costruisco la mia e ci sto riuscendo è una fatica grande anzi sono contento e non abbiamo mai litigato anzi io con ma anche con Enk ma soprattutto con Simo ma non rompermi con Zano Zano di Sanremo 15 mesi ma perché abbiamo fra faccia la peccionessa no ma faccia la peccionessa posso raccontare la Sanremo fra la Sanremo ma quante quante ne sono successe con Simone sono successe davanti grazie a Stefano ma prima di Twitch e dopo di Twitch per i test siamo super amici e super io ho porto super rispetto e ringrazierò per sempre Andrea per avermi fatto scoprire un mondo meraviglioso che non è Roma e i picchietti e il quartiere no noi facciamo facciamo un viaggio faremo un piccolo viaggio grazie tanto faremo un piccolo viaggio però allo stesso tempo io voglio essere parte dei dei pentiti tra la pentiti dei modificati è la miglior la miglior è il miglior gemellanza di Twitch vi saluto buonanotte io devo bere una birra buonanotte ragazzi vi saluto e ci vediamo domani a seconda anche Simo buonanotte buona strada un bacetto a seconda a seconda Grazie a tutti.